Il 17 maggio all'Aquila arriverà il Giro d'Italia. L'Aquila si prepara per questo grandissimo evento. Nel cartellone delle iniziative della tappa del Giro d'Italia è partita la campagna Self in Giro. In occasione della tappa del Giro d'Italia, chiunque voglia fare un selfie a tema Giro d'Italia dopo aver messo un like sulla pagina Facebook L'Aquila Giro d'Italia, potrà inviare un messaggio privato con la propria foto. Le migliori foto saranno pubblicate il 12 ed il 17 maggio. I vincitori riceveranno buoni sconto da utilizzare nello Street Food Time che si svolgerà dal 16 al 19 maggio.